Valeria Antonucci e Marta Ferrara, Auflaude Ottavino, Lisa Tortello Ed ora la sezione dei clarinetti con Davide Borrino, Elena Bianco, Giuseppe Antonucci, Luca Dio, Rossella Garramone Francesca Casella, Cristina Cairone, Marco Guerrina, Massimo Conte, Stefania Gonta Un super applauso perché è il suo primo concerto E Gianfranco Diani Dottore Sassofoni e Sassoprano Elena Ferrara E Gianluigi Pistis E andiamo con i Sassontralti con Maria Grazia Petrosanta Veronica Gotta Viaggio Antonucci Antonio Cadamuro E Marta è scelto al suo primo concerto I Sassonori con Mario Cairone Grazie